Continuiamo il nostro piccolo giro di interviste, ma in realtà di chiacchiere con amici, sempre qui ai feo di San Gregorio con la serata calici di stellati voluta da Eric Finance e andiamo con noi Gerardo Parrella che ha un cocktail che richiama la serata perché si chiama Eric come i nostri ospiti. Rimaniamo interno anche. Esatto, grazie di essere venuto prima di tutto. Che sia ancora un piacere, vale, mi sapevo. Per ora siamo all'aperitivo, ci aspetta ancora il menino, quindi la cena di questo ristorante che Marannacca ha riaperto questa sera, anzi in queste serate, perché siamo forse il terzo evento della riapertura, quindi lo andiamo a testare. Meglio che non siamo i premi, almeno ci sono stati uno, ci sono stati uno. Come è andato per ora? Per ora tutto molto interessante. La nostra azienda, l'Agenti Finance S&P, è già la seconda volta che partecipa a questo evento Eric Finance. Eric Finance è un partner per noi, un partner tecnologico molto importante che ci sta accompagnando in questo percorso di crescita all'interno del mercato credizio. per questo devo dire che sta andando molto bene, quindi questo partner oltre che permetterci di fare business in maniera veloce, rapida, snella attraverso il suo gestionato CRM, già da due anni ci allieta con questi eventi, devo dire, molto interessanti. Bene. E allora, non ti rubo altro tempo alla serata, ti ringrazio di nuovo di essere qui con noi. Grazie mille Claudio, siamo Culture un obbligatorio Tregaldi. Grazie. Grazie. Grazie.